ho già fatto io ecco non è la pena appena certo non ho neanche risciacuare no lo ho risciacuato aminox è fai guardate il sgoccio un po attenti il canso hai capito lo devi fare o no? ah ma no facile è sì enzi qui che c'è da tagliare? un pochino di frontale e basta no più che frontale è dietro sai Anton perché sono più lunghi vorrei portarli come i miei dietro guardi se la cattatura è giusta no più avanti no sennò di noi non lo rispondo guarda il pesciugo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.